Il rapporto tra criminologia, politica criminale e diritto penale. Dunque, se vogliamo affrontare specifici problemi di criminalità, il primo approccio è conoscerli. Se vogliamo intervenire quindi, il primo passaggio consiste nella conoscenza del problema. Il diritto penale assimile realtà fra loro diversissime. Si pensa ad esempio all'omicidio, oppure all'omicidio mafioso terroristico, oppure all'omicidio che si verifica in famiglia. Si tratta di tre realtà che, pur avendo il medesimo oggetto, sono molto diverse. Il primo passaggio consiste quindi nella conoscenza dei fenomeni. E la materia che dovrebbe studiare questo è appunto rappresentata dalla criminologia. La criminologia che consiste nella conoscenza del fenomeno criminale, con riguardo ai contesti di manifestazione dei singoli reati e alle caratteristiche personali degli autori. Studia quindi i contesti fattuali, esterni, ambientali, in cui ordinariamente si manifesta un certo reato e delle caratteristiche personali che per lo più caratterizzano gli individui che commettono quel reato. La criminologia studia infatti la criminalità, la devianza, il reo e il reato, secondo un approccio interdisciplinale tra le diverse scienze scientifiche o manistiche. Studia i comportamenti criminali, l'insieme delle conoscenze empiriche sul crimine, sul reo, sulle condotte socialmente devianti. Il secondo passaggio consiste nell'affrontare il problema e quindi questo si può attivare soltanto dopo aver conosciuto il problema. Questo secondo capitolo è rappresentato dalla politica criminale, nel senso etimologico di strategia criminale, intesa quindi come strategia complessiva di contrasto alla criminalità. Si può comprendere che una strategia politico-criminale deve attivare strumenti diversi e attuarsi quindi su diversi piani. Quindi fare politica criminale significa operare un intervento globale su un fenomeno. La norma penale è soltanto invece uno degli strumenti della politica criminale. Il rischio di dare per scontata la caratterizzazione retributiva della giustizia conduce a trascurare la conoscenza dei fenomeni in cui si producono i reati, la criminologia e la progettazione di strategie complessive di contrasto del fenomeno criminale, politica criminale, che non si riducono, quindi al semplice intervento penale. È un intervento penale che utilizzi pressoché esclusivamente la condanna, quindi appena detentiva. Così come la terra ruota intorno al sole, analogamente il diritto penale ruota attorno ad un preciso modello di giustizia che prende il nome di modello retributivo o del corrispettivo, dove l'erogazione della pena assorge al ruolo cardine dell'impianto. La pena è intesa come il corrispettivo del male commesso verso l'ordinamento sociale e viene applicata proprio a causa del reato commesso. Serve a punire il colpevole per il male provocato dalla sua azione illecita. Riflette l'idea del negativo per il negativo, danno per danno, impostazioni che richiede un'unità di misura omogenea, idonea a rappresentare attraverso la pena la gravità di ciascun reato, unità di misura che viene a concretizzarsi nella durata dosabile in maniera aritmetica della detenzione inflitta. Il lumus culturale e sociale da cui appunto si è originato il principio retributivo è da rintracciarsi quindi nelle sacre scritture, in particolare nel Vecchio Testamento. Guardando, dando un'occhiata superficialmente alle scritture, si può trovare un facile avalo alle concezioni retributive. Ci sono passi della Bibbia che fanno riferimento alla pena di morte, in particolare alla legge del taglione, dalla quale emerge l'atteggiamento di un dio guerriero vendicativo. La realtà è però che il diritto penale è usato elementi religiosi strumentalizzandoli e annullandone l'autentico contributo che è la Bibbia fornito al concetto di giustizia. Bisogna intanto ad esempio far riferimento a come quindi Dio si vendichi nei confronti del popolo ebraico che continuamente minaccia per ottenere il proprio consenso. Tuttavia bisogna considerare che il popolo della Bibbia, da un punto di vista storico, è il popolo ebraico. Ebrei che dalla Mesopotamia scappano e portano con sé la legislazione costituita dal codice di Amurabi, un codice di grande limitazione della vendetta, detto anche il codice del risarcimento in cui era in seta, quindi l'occhio per occhio, dente per dente o legge del taglione. Queste narrazioni hanno un significato pedagogico, vogliono infatti lanciare un messaggio, ma al di là di questo esiste nella Bibbia un filone religioso più superficiale che ha fatto proprio la novità biblica sulla figura di Dio, come Dio liberatore che vuole la libertà ed è realizzatore, che dalla condizione di schiavitù ti porta ad essere appunto libero. E di fondamentale importanza, è quindi quasi in contrasto con questo messaggio della giustizia, la si può vedere attraverso due racconti, quello di Adamo e di Caino. Adamo, come ciascun uomo, patisce una tentazione e Adamo ceda alla tentazione e invece di trovare la felicità si ritrova fallito e il suo fallimento è proprio rappresentato dalla nudità, che diventa segno di una non realizzazione. Significa che non è necessario combinare la pena, ma è l'egoismo che ha fatto modo che Adamo divenga un fallito. In questo senso di fallimento Dio parla di giustizia, perché il primo senso della giustizia è proprio andare a cercare chi ha fallito. Dio infatti cerca Adamo, Dio lo va a cercare per far verità su di lui, ma ciò serve perché ad Adamo si è ridata appunto una strada, una nuova strada che è simbolo della realizzazione. Allo stesso modo nel racconto di Diabele, che si macchia di un crimine terribile, ma Dio comincia a cercare Caino e lo interroga per avere verità. E quindi Caino costituisce, il peccatore Caino diventa infatti costruttore della città. Addirittura queste dinamiche si riscontrano nell'Antico Testamento per almeno 200 volte. in cui è connaturato un concetto di giustizia che va bene al di là delle nozioni storiche. Tuttavia una svolta rivoluzionaria si ha con l'entrata in scena in Medias Res di Gesù, dove la giustizia divina si intende al contrario come giustizia salvifica. Ciò che salva, secondo il cristiano, ciò che apre, quindi alla pienezza della vita nonostante la morte, non è la croce in quanto sofferenza pagata da Gesù a compensazione dei peccati, ma al contrario è l'amore quindi portato fino alla croce. Quindi la giustizia di Gesù consiste nel testimoniare il bene davanti al male. Secondo invece l'idea retributiva sarebbe Gesù salvatole solo perché è il figlio di Dio e solo perché avrebbe potuto farsi carico della sofferenza necessaria per compensare sulla bilancia il peccato originale. Quindi ma non è proprio così. Ora, questo modello retributivo ad oggi, quindi in questo modello retributivo la pena non è pensata come un progetto per la persona che si ha compiuto il fatto illecito, è il suo rapporto con la società e con la vittima che ha appetito il reato, ma la pena ha solo valore di corrispettivo. La pena non ha alcun profilo relazionale, ma resta pensata quindi come corrispettivo. Questo concetto infatti sembra trovare legittimazione nell'articolo appunto 220 del codice di procedura. Codice di procedura in cui si dichiara che il giugio non può disporre una perizia sulla personalità del reo. Nonostante i criteri di cui l'articolo 133, il quale stabilisce che nell'esercizio del suo potere discrezionale, il giugio deve tener conto di due diversi parametri, da un lato la gravità del reato, dall'altro la capacità al delinque, che devono essere desunti dagli indici riportati dalla norma. L'articolo 220 stabilisce che fuori dai casi di esecuzione della pena e della misura di sicurezza, sono vietate le perizie concernenti il carattere e la personalità dell'imputato, la pericolosità sociale. Ecco perché la pena non può caratterizzarsi come un progetto individualizzato, quindi del soggetto. Tuttavia, secondo come è prevista un'eccezione, in quale stabilisce che si può ricorrere all'indagine per evitale nei casi in cui siano presenti disturbi psicologici della persona, idonee ad incidere sulla capacità di indentere e volere. Si può procedere infatti a perizia per accertare l'assistenza e la rilevanza quindi di questi, bensì comprende che la perizia sarà ammessa soltanto nei casi in cui il soggetto appaia caratterizzato da disturbi della personalità. Allora, per quanto riguarda i disturbi della personalità, si fa riferimento ad un importante, in dato che siano in grado di incidere sulla capacità di indentere e volere. Infatti, senza l'articolo 85, è imputabile, è punibile soltanto chi è imputabile ed è imputabile chi ha la capacità di intendere e che la capacità di indentere e di volere. Per quanto riguarda i disturbi della personalità, si deve fare riferimento di un'importante sentenza delle sezioni unite del 2005, in tema di disturbi e responsabilità della personalità che rientrano nei concetti di infermità, non solo le nevrosi e le psicopatie, ma anche i disturbi della personalità. Acquistano rilevanza giuridica solo ove siano di consistenza, rilevanza, intensità, gravità tali di incidere sulla capacità di indentere e di volere. Deve trattarsi di un disturbo idone a determinare una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile, che incolpevolmente rende la gente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di percepirne il disvalore sociale del fatto. Non possono avere rilievo altre disarmonie caratteriali o devazione del carattere che, pur asferendo alla sfera psichica di inibizione, non presentano quindi tali caratteristiche. Nell'ambito della perizia psichiatrica, a seguito quindi di questa sentenza, è ammessa la possibilità di servirsi di tecniche neuroscientifiche utili al completamento della tradizionale diagnosi psichiatrica, come ad esempio l'ipotesi di imaging celebrale. Vengono utilizzate le neuroscienze nel processo ed è, si tratta di un accertamento di carattere psicologico-psichiatrico, che non devono fornire verità, ma sono solo conoscenze empiriche e hanno il ruolo di supporto alla decisione di cui il giudice non può comunque farne a bene. Una buona perizia non coincide con una perizia assolutamente giusta e ruminatura, ma quella che si avvale di metodiche di indagine più precise e sicure e disponibili per evitare margini di errore.